Sempre in merito, scusate, allo scoop di ieri che abbiamo dato sulle dimissioni di Antonio Conte poi chiaramente è arrivato Massimiliano Allegri, ha fatto la conferenza e tutto quanto e c'è da registrare le dichiarazioni sconvolgenti a questo punto lo cazzo guardo qua, sconvolgenti di Andrea Pirlo era un po' nell'aria insomma, si diceva ma Pirlo che dirà? perché quello, se sapete la storia insomma, dopo essere finito in panchina ai danni di De Jong quello ha detto al Milan, io me ne vado è andato alla Juve, poi ha vinto tutto, i scudetti eccetera e quindi adesso si ritrova Massimiliano Allegri da cui è scappato sentiamo cosa ha detto, ecco vi leggo proprio Lanza voi immaginate il personaggio Pirlo, sempre un po' stacco però quando si incazza, cambia anche il modo di parlare, cambia anche il dialetto sentite che cosa ha detto, lo leggo testuale Aho, ma che ve siete bevuti al cervello? Ma come? Io faccio tanto per scappare da Milan per un avello più tra i coglioni e voi me lo fate riciccià? Questa è stata proprio testuale la dichiarazione di Pirlo attendiamo le risposte insomma Grazie mille!